Sempreverdi, MTIers, oggi è il primo dicembre e scatta il turno delle anticipazioni di Prime Video. Ora prendete nota perché anche Amazon ci ha riservato delle belle sorprese. Come sempre, prima di partire, breve nota su quanto ho visto nell'ultimo periodo, ma ancora prima un accenno ai prossimi video in arrivo qui su questo canale. Una spiegazione sulla piattaforma di Pluto TV e pure le uscite di Sky e Now. Quindi iscrivetevi per rimanere sintonizzati. Adesso due parole sulla ruota del tempo. Serie fantasy tratta da una famosa serie di libri. Prima cosa, chi ha letto i libri mi ha detto che questa serie è così attinente ad essi da poter raggiungere il livello di fondazione realizzata però da Apple TV. Insomma, parti totalmente inventate. Già questo non depone molto a suo favore, io però posso dire che la trovo carina, ben fatta dal punto di vista della qualità video, gli effetti un po' meno, ma quello che incide è la narrazione lenta in cui non succede nulla e anche i personaggi non mi stanno parecchio simpatici. Insomma, non riesco a stare concentrato durante la visione. Amici invece la stanno trovando molto bella e io a questo punto la metto tra le serie da stiro, cioè da guardare mentre si fa altro senza prestare troppa attenzione. Caso diverso per Vita da Carlo, che mi ha preso pari a zero proprio, anche se mi è parsa ben fatta in linea con altri prodotti italiani che non fanno per me. Molto interessante il meme che vi mostro ora, che affianca i personaggi di questa serie con quella ben più blasonata di Bojack Horseman. Adesso ditemi voi nei commenti, se state vedendo questa serie, se questo accostamento sia reale o meno. Io intanto passo alle nuove uscite. La prima di queste uscite è il film Harlem in uscita al 3 dicembre. Si tratta di una commedia tutta al femminile, ambientata appunto ad Harlem e dedicata alla black culture. La situazione non è standard perché le quattro amiche provengono sì da Harlem, ma non sono né stupide né di ceto basso. Tanto che abbiamo una stilista inguaribile romantica, una creatrice di app di incontri, un'attrice cantante e infine una professoressa universitaria di antropologia che conosce i modi di corteggiamento tra le varie culture, ma non ha successo lei stessa. Proprio da qui parte e gira attorno tutta la comicità della pellicola, e dal trailer ammetto che non mi è sembrata male, ma non è proprio il mio genere. Ma magari voi l'apprezzereste, vista la percentuale così elevata di donne che guardano i miei video. Giusto per chiarire, in singola cifra percentuale. Ecco invece l'arrivo della seconda stagione di una serie che mi era piaciuta. Mi riferisco ad Alex Rider. In arrivo il 3 dicembre, uno spy teen che mi ha sorpreso e si è fatto guardare molto bene. Abbiamo lasciato il nostro Alex dopo che era riuscito a bloccare il tentativo di controllare i giovani rampolli dell'elite mondiale da parte di un misterioso gruppo con sede nel bel mezzo delle Alpi. Ebbene, il nostro giovane Alex sia un po' stancato di rischiare la vita ed è tornato ad una vita più normale, ma a quanto pare ha messo in moto qualcosa e ora dovrà salvare la famiglia del suo amico da questa organizzazione criminale mondiale. Insomma, si torna a fare la spia. Nulla di trascendentale. Alla fine Alex è il solito giovane buttato in mezzo agli eventi senza formazione che fa cose che manco quelli addestrati. Ma se regge bene l'intreccio e gli attori rimangono decenti, è una bella serie per staccare un po' dalle cose più serie o anche per non guardare sempre quel fascinoso trash che Amazon ci regala in quantità. A proposito di trash, finalmente arriva la serie più attesa, Ferragnes, che debuterà il 9 dicembre con i primi 5 episodi e per gli ultimi 3 bisognerà attendere una settimana in più. Dicevo, attesa da mille, ma che dico mille, mille, giovani follower della Ferragnes e di Fedez. Questa volta non oso dire nulla di male contro di loro perché l'ondata di haters che potrebbero riversarsi qui sarebbe così immensa che quelli di Creators The Past potrebbero veramente dire di essere stati sovverchiati dai poteri forti. Tornando seri, credo che Prime si sia giudicata a un gran seguito con questa serie e pertanto becchiamoci questa serie che va ad indagare e sviscerare la vita di questi due noti influencer tra la fine degli anni 20 e l'inizio del 21, in pieno lockdown quindi. Fra l'altro ho massima stima per i due perché non hanno paura di intervenire e punzecchiare l'ambito politico e sociale per creare una discussione e apertura su argomenti che la politica preferirebbe non toccare. Potrei dirvi che ora arriva l'uscita che attendo con più ansia ma sinceramente di vedere la sesta stagione di The Expanse prevista per il 10 dicembre non mi sta creando tutto questo hype. Dopo la delusione della quarta stagione un decente recupero nella quinta in cui però hanno tagliato troppo frettolosamente le gambe ad un personaggio per problemi fuori dal set ho perso gran parte delle aspettative e sinceramente spero che la roscinante salvi tutto in fretta. La Terra, Marte e i Cinturiani facciano pace e che tutti vivano felici e contenti con gente che si sposa figli che si pentono marziani riabilitati e la proto-materia che sparisce così senza spiegazioni reali. Ok, forse sono stato troppo sarcastico ma davvero spero che facciano una bella conclusione di questa serie che comunque reputo probabilmente la migliore nell'ambito della fantascienza dai tempi di Battlestar Galactica. Solo mi spiace, mi sia sembrato, si siano lasciati andare in queste ultime stagioni. Rimango in ambito fantascientifico con il film Encounter in uscita sempre il 10 dicembre. In questo caso la fantascienza sembra un pretesto per parlare di rapporto padre-figli e non solo. Comunque tutto è incentrato sulla missione che questo padre ex militare si impone per salvare i suoi due figli da una misteriosa minaccia aliena. Dal trailer mi è piaciuto molto quando il padre fa contare uno dei suoi due figli per distrarlo da quello che stava accadendo attorno a lui. Il film ha già ricevuto critiche positive essendo stato presentato due mesi fa al Festival di Toronto. Per chi fosse interessato ad una visione cinematografica magari dal 3 dicembre lo può trovare già in qualche sala convenzionata. Io un'occhiata mi sa che la do a questa pellicola. Il top di dicembre però può essere solo e soltanto The Grand Tour in arrivo al 17 del mese con i tre fantastici Clarkson, Hammond e May che questa volta prendono di mira le auto francesi testandole alla loro maniera nel tentativo di spiegare come mai siano così strane da vedere negli UK. Il trailer è esilerante con addirittura una due cavalli che vola, le solite esplosioni e auto rotolanti e distrutte. Insomma, a causa lockdown il trio ha un po' tornato alla vecchia maniera come già avevamo visto l'anno scorso. Quindi benvenga per noi appassionati di auto questo speciale natalizio con la speranza si ritornino a fare boiate in giro per tutto il mondo tra fantastici panorami e il loro solito humor perché sia chiaro, questo The Grand Tour gira solo grazie alla pazzia e affiatamento di questi tre ormai insieme da quasi un ventennio. Prima della fine del mese e dell'anno c'è ancora un film che attende. Wrath of the Man, la furia di un uomo. In arrivo il 27 dicembre in questa pellicola è presente Jason Statham e qui posso già chiudere perché il film è sicuramente da vedere ma se fate i difficili e la cosa non vi convince allora mi toccherà darvi qualche dettaglio in più. Un nuovo dipendente viene assunto da un servizio di sicurezza e assegnato ad un compagno di lavoro per il trasporto di valori. Tutto sembra nella norma e il nuovo arrivato sembra tranquillo e solo interessato a portare a casa lo stipendio. Quando però il portavalori viene attaccato per una rapina le cose cambiano e scopriamo la vera natura di Age il nuovo arrivato. Dal trailer sembra molto un misto tra LA Heat, Training Day e soprattutto The Punisher. Insomma io lo vedo molto bene questo film quindi buona visione. Mentre giungiamo verso la fine del video penso che abbiate notato questa nuova maglietta di Evangelion che indosso. Regalo molto gradito da parte di due mie fan e amiche che ringrazio tantissimo per il supporto morale in questa mia impresa. Se loro addirittura mi hanno fatto questo presente chi siete voi per non mettere almeno un mi piace a questo video e iscrivervi attivando la campanellina? Ecco, allora procedete e commentate che mi piace sentire la vostra opinione e non dimenticatevi di inondare i vostri social con questo mio video per dare qualche info ai vostri amici su cosa guardare vista la vastità di offerta streaming di oggi. A proposito di uscite ancora non avevo finito quindi vi lascio con ben due segnalazioni da vedere o meglio rivedere per Natale. Intanto dal primo dicembre sono disponibili tutti e dico proprio tutti i film di Harry Potter qui su Prime Video. Sicuramente non delle novità ma comunque dei film molto apprezzati per una visione in famiglia e con i propri figli. In ultimo e proprio previsto per il 25 dicembre è in arrivo come un gatto in tangenziale ritorno a Coccia di Morto seguito del primo fortunato film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi che parla di questo incontro e scontro tra due mondi romani ma direi anche italiani molto diversi. Direi quindi come proposta alternativa natalizia. Noi però ci si vede al prossimo video carissime M.T. Ayers un grazie di tutto e ciao!